Ooooooooh Ma no 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 non bisogna Davvero? Ragazzi non era mai successo prima e oggi per la prima volta vi ho portato un personaggio di Fortnite Siamo qui con Aura chiamata anche Anubi e con Shane Ciao Bella E quindi ho chiesto a voi su Instagram di farmi delle domande da farle Che così sappiamo le risposte che ci può dare la vera Aura Ehm... sei pronta per iniziare Aura? Sì, 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 sì Ok Ragazzi mi raccomando 10.000 mi piace se volete il prossimo video insieme a lei E vi ricordo che se inserite il codice SHIKO in supporto a un creatore su Fortnite E ci taggate in una storia di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop Noi riposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi tutti i giorni Ok facciamoci qualche partita abbiamo messo tutti quanti la skin Aura Siamo pronti? Ok ragazzi abbiamo scelto 10 domande di quelle fatte da voi su Instagram E per ogni kill le faremo una domanda Ok ragazzi come prima partita tutte noi tre Aure andremo a siepi Chissà che risposte alle domande ci darà Io non so nemmeno le domande le sa solo Shane Sì, posso chiederti un favore Luca? Dimmi Mi fai fare bella figura che Aura è la mia crush su Fortnite Sì è bellissimo Ma guarda che lo dico Emi eh Vabbè ma è una skin No non c'entra non mi sembra tanto una skin lei È vera è la più bella Ahia Vieni nella casa vicino alla mia Shane Ok ragazzi Adesso basta scherzare che voglio sapere un sacco di cose sulla nostra Aura Sì Ho già pronte le domande Ogni kill una domanda Uh a terra uno Fai c'è un altro qua Ha ucciso Shane puoi farmi una domanda? Ok Scusa Vai Sì 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 fai tutte le domande che vuoi Ho due domande per te Vai sono curiosissima Prego 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 Preferisci La pizza o il sushi? La pizza ovviamente Dai Aura come poteva preferire il sushi? Brava Anch'io se vuoi possiamo mangiarli insieme un giorno La smetti tu Aiemi? Vabbè un'altra domanda Schifo Come mai hai usato Ma ehi Così mi pare Come mai hai usato il nome Aura? Perché la mia Aura è potentissima Oh Bellissimo Ma mi resti? No No Ok prendiamo la zipline e andiamocene Ok Dobbiamo fare un sacco di kill Abbiamo tante domande da fare Sì Anche io sì voglio sapere Shane Ma c'è qualche domanda un po' Sì Davvero? Oh sì Dici che non ha sentito bro Speriamo Ma sono otto Oppure? Ma cosa? Salta salta bro Posso prendere io questa? Ok No ridammelo Ridammeli Hai da dire qualcosa se il fatto che ti rubi il loot Sì C'è gente qua Arrivo Dove sono? Dove sono? Dove sono? Pariamo 20 a 1 23 23 È esploso Adesso lo distruggiamo Tranquilla È morto Aiuto Aiutino Arrivo 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 Salvatemi A terra 1 Ah Ma ha scelto Io ho scelto lui A terra un altro Ma ha mangiato No 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 Vai Mamma mia Grazie Aura Grazie mille Oh mancano 20 secondi bro Prendimi la mia scheda Arrivo Mi sparano già? Ok Iniziamo Quanti anni hai? Uh 22 Quindi Aura ha 22 anni Alla mia età Ma Ciao Aura Io ne ho 16 Non te l'ha chiesto bro Sei tu che l'hai chiesto lei Ok Ok Questa qui è una domanda molto importante Luca E Quanti soldi hai dentro il sacchetto che hai Ma Di fianco È una domanda È una domanda dei sushini? Allora Vabbè comunque Non sono soldi Oh no E Cosa sono? Sono monete di cioccolato Davvero? Di cioccolato Sì Voglio anch'io le monete di cioccolato Anch'io? Ehm Questa qui Luca L'ho scelta per te Uh sì Ringraziami Visto che sei di lande Ehm Magari Conosci Marin È tua amica Puoi parlare Le bene di Luca Non lo so Non la conosco Però potrei farlo Sì sì Parla le bene di me Magari sei tu vicino di casa Sì Potrei aiutarti Sono brava io A aiutare la gente Nelle relazioni Davvero? Sì Allora potresti aiutare anche me Emi Sì Potrei Ma Ehm Posso fare un'altra domanda? Certo Perché sei così traiardona Durante il game? Ma Eh perché quando mi hanno creato Hanno pensato apposta A una skin abbastanza Snella diciamo E Abbastanza forte Sì Una skin da competitive Esatto È vero Aura È una delle mie skin preferite Letteralmente Guardate che bella Prossima domanda Io ho fatto una kill Oh sì 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 Una domanda Ok Per caso ti piace tanto l'oro? Eh sì Un pochino È perché vedo che i tanti Collari Bracciali Collari Cos'è? Un cane? Si chiamano collane Ma la gente dov'è? Il problema è che appunto Non trovo i nemici Cioè staranno sparando qualcuno Gli hanno uccisi I bot Davvero? Ma i bot adesso sono proprio forti Non ci credo Sono davvero morti da Cosa ridi? Che anche te Che nemici scarsi Vabbè dato che è morto E probabilmente Ve lo sareste ammazzato voi Vi concedo una domanda Davvero? Grazie Aura Grazie Quanto sei alta? Un pochino Come un pochino? Ma che misura è? Un pochino quanto? Sono alta alta Davvero? Sì Quanto? Provate a indovinare 1,80 1,75 Sì Davvero? Sì Ma è pianta di noi due Lutano Sì? Ma che cavolo? Ma dai È molto aula No non è possibile però È un po' Ventura quello Ammazzato Ammazzato lui Accure? Si vende Sì Deve rubare vende Deve rubare vende C'è alcun poro C'è alcun poro C'è alcun poro Ok vi do al massimo supporto Raga lettate tutti Uuuuh Aiuto Arrivo io Mamma mia Mamma mia raga Questo po' Dobbiamo fare un pacco di domande Sì falle falle Inizia a falle I sushini vogliono sapere Cosa ne pensi di Gilda Siamo amici Solo amici? Sì Come noi Perché non ha funzionato No Eh vabbè ragazzi Succede Eh lo capisco bene Eh sì Bene Andiamo avanti con le domande Questa è una domanda interessante Perché delle strisce nere sul viso? Perché quando mi hanno creato Volevano farmi un po' più cattiva Tipo segni Non lo so Sul viso e Tipo segni di guerra Sì tipo una di quelle che fanno così Wow Sì esatto Ok puoi fare altre due domande Ok la prima domanda è Come fai ad essere così bella? Ma? Ma? Che carini Ma che domanda Bruno non dovresti chiedere queste cose tu Perché? Non è giusto Perché dovresti chiederlo a Emi Eh ma le domande le ho prese dai sushini Ah è vero quindi è stato un sushino ad essere carino Che carini Anche secondo me però è bella Ma? E beh Come fai ad essere così bella quindi Aura? Non lo so Io Bellezza naturale Uh Non si sa Mi hanno voluto fare così È sciottato Posso fare una domandina? Sì Oh ne ho ucciso uno a caso Ok la domanda è No Vai 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 distruggila Grande Occhio di là È l'ultimo No non lo colpi Grande La domanda è Perché continui a comparire nello shop? Ma come? Ma rispondo io a questa Perché è bellissima come skin Mi ha laserato con la top Che pensiamo noi? Dobbiamo distruggere con il caccia bro Hittato Wow a terra uno Però ho fatto una kill Quindi possiamo fare una domanda Eeeh Da quanto tempo giochi? Dalla season 2 Beh da tanto tempo No Luca? Sì season 5 Non è male Ne ho fatto un'altra E questa qui è una domanda un po' strana Però devo farla Perché i sushini sono curiosi Vai Ok Cosa ne pensi di Luke? Luke è un bel ragazzo Aia Grazie Luca? 150 No Ah è sceso Ti vogliono far cadere? Vai Oh Ah Aiuto aiuto No No Secondi Brutto Antipatico Hai un'ultima domanda da fare? Sì Che cosa? È un pochino così Però sei costretta a rispondere Ma Ti metteresti con Luke? Ma No no Non bisogna rispondere ragazzi E per ora Noi non possiamo far altro che salutarvi Ringraziarvi Perché noi come sto Gimicchiamo al prossimo video Ragazzi salutate Ciao Bella Bella Stella!